pace e bene cari fratelli e sorelle bentrovati in questa ventiduesima domenica incontriamo un testo profondo serio che ci presenta dapprima il rimprovero che gesù fa a pietro quindi le condizioni per seguire gesù potremmo dire che da una parte ci dice quanto sia importante capire chi sia gesù e la salvezza che egli ci porta dall'altra ci dice che però ciò non basta perché la nostra vita cambi è necessario seguirlo vediamo un po se ricordate domenica scorsa gesù ha chiesto dapprima ai suoi discepoli chi la gente dice che egli sia pietro riconosce gesù come il cristo e il figlio di dio dopo essere stato riconosciuto potremmo dire che gesù gioca a carte scoperte mostra che il cristo e il figlio del dio vivente non è quello che pensiamo noi e annuncia per la prima volta la sua passione siamo ad un momento di svolta nel vangelo gesù sta formando i suoi discepoli e noi arrivati a questo punto si tratta ora di capire che tipo di messia è quale sia la salvezza che egli è venuto a portarci gesù dice che è necessario che egli patisca egli deve patire attraversare la passione morte per poi risorgere il terzo giorno sì gesù deve patire ma non perché dio gode nel veder soffrire suo figlio così come si diverte a mandarci croci e sofferenze no gesù deve patire è necessario che per salvarci si doni fino in fondo sì l'amore è passione fa patire fa sentire come proprio il bene e il male dell'amato donandosi sempre e comunque adesso è necessario che gesù muoia per noi perché perché si riveli chi è dio e chi siamo noi dio è amore infinito per noi e noi siamo infinitamente amati da lui è solo la passione che ci rivela che non dobbiamo aver paura di dio che lui c'è fedele sempre fino in fondo che è sempre solo amore e che possiamo fidarci di lui che vale la pena anzi fidarci di lui pietro però non comprende tutto ciò sente l'annunzio di gesù della sua passione ormai imminente non ci sta affettivamente possiamo anche capirlo un amico non vorrebbe mai che l'amico debba soffrire ma nella reazione di pietro c'è qualcosa di più serio ci svela la lontananza che c'è tra il nostro modo di pensare e il pensiero di dio pietro prende da parte gesù e lo rimprovera duramente pensate che matteo usa lo stesso verbo utilizzato per gli esorcismi di gesù quando gesù sgrida il diavolo cioè secondo pietro gesù l'ha sparata proprio grossa è quasi indemoniato ma non sia mai che tu debba soffrire ma che ne sarebbe del cristo e del dio vivente se se tu fossi un perdente ma come tu sei il messia il figlio di dio dio è con te e dovresti soffrire patire ma non sia mai se dio è con te non permetterà che ti succeda nulla sarai vincente in tutto il rimprovero che gesù fa a pietro ci fa intuire la gravità di questo ragionamento gesù si volta lo guarda e si rivolge con grande fermezza pietro anzitutto gli intima di mettersi dietro pietro si era messo davanti per condurlo a far la propria volontà gesù non lo respinge lontano ma gli dice mettiti dietro lo rimette nella giusta posizione vedete quante volte nella nostra vita facciamo lo stesso la nostra preghiera non è più umile richiesta non è più abbandono fiducioso o desiderio di ascolto di dio ma in fondo in fondo è pretesa che dio faccia quel che noi vogliamo e se non lo fa piantiamo i piedi come bambini capricciosi allora gesù lo rimette al suo posto e gli ricorda pietro sei tu che devi seguire me non sono io che devo seguire te dio non deve benedire tutte le nostre iniziative far tutto ciò che vogliamo siamo noi che dobbiamo seguire lui e lui che salva noi la salvezza vera non è che dio faccia ciò che chiediamo noi ma è che noi accogliamo e seguiamo lui allora gli dice mettiti dietro di me e lo chiama addirittura satana dicendogli che gli è di scandalo gli è di intralcio perché perché non pensi secondo dio ma secondo gli uomini pietro ha il pensiero ingarbugliato potremmo dire imbrogliato dal nemico pietro pensa a preservare gesù all'autoconservazione di gesù invita gesù a pensare a sé potremmo dire a seguire una via di gloria dio invece ragiona secondo la categoria dell'amore del dono totale cerchiamo di capire meglio qual è l'inganno nel quale cade pietro riguarda una certa idea di dio e quindi della salvezza che gesù è venuto a portarci partiamo dall'idea di dio dio che cosa è per pietro dio è qualcuno che non deve permettere che tu nella vita debba soffrire attraversare nulla di doloroso potremmo dire che dio è ridotto all'assicurazione contro gli infortuni al divino risolutore di problemi anzi al divino preservatore dai problemi cioè se tu gli sei alleato tutto ti andrà bene nella vita c'è una forma di predicazione ancora in voga soprattutto tra i cristiani evangelici che ti propone la bellezza del vivere in grazia di dio nei termini di benedizione una benedizione molto materiale salute soldi e benessere a volontà a volte la sottile tentazione di pensare a dio al rapporto con lui in questi termini viene smascherata nei momenti di difficoltà quando la vita ti presenta cose inattese dolorose e allora sale un'invocazione quasi un lamento ma perché proprio a me ma come io che cerco di fare il bravo di pregare mi ritrovo ad attraversare certe cose ed ecco quindi dei sillogismi tremendi della serie se tu mi amassi non permetteresti certe cose allora o non mi ami o non ci sei la domanda sorge spontanea e dio che non ci ama e non c'è oppure siamo noi che non ci fidiamo ancora fino in fondo di lui che cosa consegue a questa idea quale sarebbe la salvezza che gesù viene a portarci il punto quale miei cari che gesù è venuto a salvarci sì ma da che cosa dai problemi di salute dai problemi economici no miei cari gesù è venuto a salvarci da qualcosa di più serio dal male profondo che abita in noi dal peccato da quella tendenza all'egoismo da quell'inclinazione verso il male che ci porta a essere fatti per il bene al desiderare l'amore ma non riuscire fino in fondo a compierlo all'essere incastrati in quella tendenza a vivere per noi stessi che ci impedisce di donarci fino in fondo gesù è venuto a salvarci dalla paura che abbiamo di dio che ci porta a vederlo come qualcuno lontano nemico della nostra felicità carceriere della nostra libertà è venuto a rivelarci il volto di dio che ci ama e ci offre la comunione di vita con sé l'eternità la capacità di amare come lui e attraversare con lui anche le cose più serie della vita questa è la salvezza miei cari salvezza dalla morte dalla paura della morte dal mio egoismo qui c'è qualcosa di molto più grande è vero noi a volte nella vita attraversiamo delle cose difficili è chiaro è giusto chiedere al signore che ci aiuti determinate malattie che ci sostenga e ci liberi da difficoltà economiche è chiaro che il signore ha a cuore tutte le dimensioni della nostra vita ma vedete a volte certe cose è necessario affrontarle se dio ci togliesse tutto all'istante come noi vorremmo non ci amerebbe fino in fondo perché perché impedirebbe la nostra maturazione ci impedirebbe di incontrare lui nelle difficoltà di maturare proprio in quelle prove di purificare i nostri cuori ci toglierebbe l'occasione bellissima che abbiamo di crescere nella fiducia in lui e nell'amore di diventare uomini e donne maturi santi in fondo miei cari ciò che fa profondamente soffrire il nostro cuore non è tanto la difficoltà o la prova che affrontiamo quanto piuttosto il fatto di viverla senza senso senza una direzione o il senso profondo di abbandono e solitudine che sperimentiamo in quelle prove altro e viverle da soli con questi sentimenti negativi altro e viverle con cristo illuminati dallo spirito con la luce del vangelo capace di rischiarare anche le tenebre più profonde qui non si tratta di sapere delle cose ma di seguire una persona di obbedire a lui ecco perché gesù subito dopo dice chi vuol venire dietro a me rinneghi se stesso prenda ogni giorno la sua croce e mi segua qui c'è qualcosa di serio rinnegare se stessi cioè smetterla di metterci al centro vivere per noi stessi e seguire qualcun altro il termine rinnegarsi implica che qualcosa che fino a ieri si è affermato si è ritenuto valido ora lo si mette in discussione non lo si crede più cioè smetterla di seguire sempre solo la mia testa e imparare a lasciarmi guidare da qualcun altro smetterla di volermi salvare a modo mio e lasciarmi salvare da dio rinnegare tutte quelle idee quei modi di fare sbagliati egoistici distorti rinnegarmi per ritrovarmi potremmo dire e subito dopo il signore ci dice chi vorrà salvare la propria vita la perderà chi la perderà per me per il vangelo la ritroverà cioè come a dire se impari a seguire lui e impari a vivere secondo la logica dell'amore e la smetti di vivere per il tuo tornaconto egoistico ti ritrovi davvero il grande rischio per tanti e concludo è quello di pensare di sapere già chi sia gesù ma non seguirlo rimanere ancorati al nostro egoismo vivere essenzialmente per se stessi non lasciarsi scomodare troppo dal vangelo uguale la vita non cambia non entri nella pienezza di vita non lasci che dio rinnovi fino in fondo la tua vita chiediamo la grazia allora di accogliere la lieta notizia che ci arriva da questo vangelo di non aver paura di perdere la nostra vita per seguire cristo nelle piccole come nelle grandi scelte di ogni giorno solo lui è capace di portarci a pienezza solo lui ci offre la comunione con sé solo lui ci offre la vita eterna immortale illimitata una vita piena redenta nuova che il buon dio vi benedica tutti pace e bene